Ora è ufficiale per le elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre i parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza, saranno al fianco di Elisabetta Barone. La dirigente scolastica sarà candidato a sindaco con diverse liste civiche, ma ci sarà anche il simbolo del Movimento 5 Stelle, come hanno annunciato i tre parlamentari che hanno voluto tenere una conferenza stampa questa mattina per chiarire la loro posizione dopo l'incontro nel quale, nei giorni scorsi, gli attivisti del Meetup hanno invece ribadito una scelta autonoma e presentato una loro candidata a sindaco. Ma lavoreremo per tentare di riunire i grillini e ricucire con gli attivisti, hanno dichiarato i tre parlamentari, sottolineando che in ogni caso il loro è un percorso alla ricerca di una terza via tra la visione unica dell'Ucchiana, l'opposizione totale al sistema è la loro alternativa, che è quella di chi cerca dialogo e intese. Tofalo, voi parlamentari avete chiarito la vostra posizione e sarete con Elisabetta Barone per le amministrative a Salerno? Sì, sosterremo la candidatura della dirigente, della presi di Elisabetta Barone, un candidato civico, dopo aver in questi dieci mesi valutato e avuto anche la disponibilità di importanti figure salernitane, ha emersa un largo appoggio, una larga sintesi alla figura di Elisabetta Barone, che è quella che ha fatto convergere le maggiori energie. E dialoghi che stanno continuando tuttora con altre importanti forze e movimenti cittadini, auspichiamo che da qui qualche settimana, rispetto a quelle 7-8 liste, gruppi che si sono già aggregati, io auspico che ne arrivino altri. C'è la possibilità anche di recuperare con il meetup che possano cambiare idea e alla fine sostenere la vostra posizione? Io spero proprio di sì, spero proprio di sì. Quello che abbiamo detto anche oggi è che se tutti quanti noi ci teniamo davvero a Salerno è importante che ognuno di noi faccia un piccolo passo indietro per far fare un salto in avanti alla città di Salerno. Non è più il momento di andare contro quella che è un'amministrazione trentennale, un flusso trentennale, non è più quella la politica del contro che pagherà. I cittadini ci chiedono invece un progetto nuovo di ampio respiro, un patto civico, ed è quello sul quale abbiamo lavorato, ci siamo spesi in prima persona, quindi auspichiamo non solo gruppi magari appartenenti alla nostra area, ma anche altre forze politiche che tutt'oggi hanno un loro candidato sindaco e che a mio avviso forse si accontentano semplicemente di mettere una bandierina. Ecco io faccio un appello anche a tutte queste importanti energie, se riescono a convergere su questo patto civico allora sì che sarà possibile fare tutto a Salerno. Avete fatto una conferenza stampa dichiarando cerchiamo il dialogo ma intanto è proprio all'interno del Movimento 5 Stelle che c'è una frattura con il meetup che ha deciso di andare da solo. Ma più che una frattura direi che da una parte c'è il Movimento 5 Stelle che è rappresentato ovviamente dai parlamentari, dai portavoce nazionali, che fortunatamente in questa occasione parlo a nome mio di Angelo Toffoli e di Andrea Cioffi, sono concordi su una linea politica e quindi il Movimento 5 Stelle è rappresentato da questa posizione. Sarà presente anche con il simbolo a sostegno di Elisabetta Barone? Sarà presente col simbolo ovviamente perché questa è una cosa che noi dobbiamo alla nostra città visto che non abbiamo presentato la lista cinque anni fa, quindi è un dovere, ma è anche un dovere rispetto al grande contributo di consenso che è stato dato al Movimento a Salerno in occasione della mia candidatura del 2018. Andrea Cioffi, parlamentari salernitani, al fianco di Elisabetta Barone mentre il meetup sceglie di candidare un'altra persona. Vabbè ragazzi questo non è un problema, io penso che il lavoro che fa il Movimento e il lavoro che fa il meetup mi sembra che abbia una coerenza di fondo che è quella di non essere schierati con l'attuale sindaco, quindi mi sembra che da questo punto c'è una coerenza di fondo. Il fatto che ci sia stato un momento di disjunzione è una cosa che succede nelle migliori famiglie, mi auguro che questa disjunzione possa diventare una rete per recuperare? Ragazzi, lo scopo qual è? Lo scopo è dare un volto nuovo a Salerno e cambiare Salerno, se lo scopo è cambiare Salerno io penso che forse la soluzione migliore è lavorare tutti insieme.